Avevano concordato il prezzo, 50.000 euro in contanti o altre utilità e regalie, in base al quale pilotare la gara d'appalto da 11 milioni di euro che poi ha avuto il suo corso. Come stabilito? Per questo stamani i finanzieri del nucleo di polizia economico-finanziaria di Pescara hanno eseguito tre ordinanze di custodia cautelari in carcere a carico di tre persone, il dirigente del Dipartimento di Salute Mentale della ASLE di Pescara, Sabatino Trotta, e poi due figure apicali della cooperativa sociale La Rondine. Il legale rappresentante è una dipendente con funzioni di coordinatrice. L'ordinanza emessa dal GIP Nicola Colantonio su richiesta della Procura della Repubblica di Pescara è un punto di svolta di un'indagine che ha preso il via la scorsa estate a seguito di denunce circa comportamenti atti a turbare la gara volta ad assegnare l'affidamento di residenze psichiatriche e ospedaliere dal valore complessivo superiore agli 11 milioni di euro indetta con delibera della ASLE del gennaio 2020 è aggiudicata in via definitiva lo scorso mese afferente un comparto molto delicato quello della cura delle persone più fragili nel caso di specie affette da problematiche psichiatriche da erogarsi presso numerose strutture residenziali e centri diurni ubicati nel territorio provinciale alcuni dei quali già gestiti dalla cooperativa. L'attività investigativa dei finanziari ha ricostruito un quadro nel quale è emerso un accordo stretto tra i due rappresentanti del Consorzio e il dirigente del Dipartimento per indirizzare la gara d'appalto nella quale lo stesso dirigente sanitario ha svolto funzioni di pubblico ufficiale della gara predisponendone il capitolato tecnico e scegliendo i componenti della commissione giudicatrice tutte lui collegate personalmente e professionalmente per poi poterle condizionare al fine di garantire al Consorzio l'attribuzione del massimo punteggio così sono scattati gli arresti ai tre indagati per i reati di corruzione istigazione alla corruzione e turbata libertà degli incanti e il sequestro preventivo di beni per 50.000 euro nei confronti di Trotta Il singolo appalto attenzionato come accennava l'ottore Samantini è quello di 11 milioni di euro che è una cifra molto rilevante se pensiamo che poi potevano arrivare a 17 milioni di euro nel caso di proroga dell'appalto perché questi 11 milioni di euro dovevano essere spalmati in 4 anni ma c'era poi la possibilità di prorogare l'appalto per altri anni e quindi si sarebbe arrivato a 17 milioni di euro e siamo intervenuti quindi sul singolo appalto però abbiamo individuato nell'ambito di questo singolo appalto più atti corruttivi più atti corruttivi che hanno poi come dirà specificatamente il Cornello Nauno hanno praticamente drogato questa procedura d'appalto Tra i motivi che hanno spinto in particolare il dirigente del Dipartimento di Salute Mentale ad assumere questi comportamenti anche il suo impegno in politica fatto che è stato evidenziato tra i momenti nel corso del proprio intervento dal PM Mantini Trottasi era già candidato come consigliere regionale nelle elezioni del 2019 il proposito era quello di accrescere il proprio consenso in vista dei prossimi appuntamenti elettorali La cooperativa immaginate o meglio le varie cooperative aggregate a questo gruppo di interesse hanno rappresentato un interessantissimo bacino elettorale per le future competizioni parliamo di circa 700 dipendenti moltiplicate per le famiglie questo è stato riaccertato nelle intercettazioni uno dei fattori diciamo sicuramente movente dell'attività ma anche diciamo uno scambio diciamo corruttivo che il GIP ha molto valorizzato da questo gruppo di intervento ー